Sono le 9 e 10, cos'è anno? Utenti di Sport Friuli, siamo ancora qua per voi Capitano D'Agostini, ci dica qualcosa su Stefano Franz di Sport Friuli Stefano Franz, quello che non è capace di beccare la traversa dal limite dell'area Guarda, proprio lui mi ha rubato le foto Cosa vuoi che ti dica? Un gran uomo chiosco, un gran fotografo Un gran fotografo, ecco quello forse è il suo mestiere Solo fotografo Solo fotografo Intervistatore, boh, ho intervistato due sfigandelli come noi Ma come calciatore dal limite dell'area Proprio male Non c'è niente da fare, mi dispiace Mi dispiace Lasciamo gli un messaggio Stefano, Stefano, è un piacere averti qua con noi Ma sempre averti qua con noi Per scannare quelle 15.000 birre Per mangiare quei buoni salsicciotti Ma in campo mi dispiace Mi dispiace Congratulazioni Stefano per il tuo lavoro Parola di? Capitano D'Agostini Cose? Uno!